Sono Marcello Martinelli della Mare SNC di Bergamo, sono il titolare dell'azienda, noi siamo un'azienda che fa integrazione, lavoriamo prettamente sul residenziale, sulle imbarcazioni, sul navale. Siamo venuti all'ISE per vedere le varie novità presenti quest'anno che non ne abbiamo viste tantissime sotto questo fronte. Abbiamo due progetti sul residenziale di alto livello e soprattutto sulla parte di hotel e spa e come ultimo progetto stiamo finendo e definendo il discorso nautico con un progetto nuovo che servirà ad integrare l'imbarcazione con un solo cavo di rete. Il nuovo integratore di sistemi deve proporsi sul mercato sicuramente con delle innovazioni molto semplici che offrono la massima versatilità all'interno dei sistemi ma che soprattutto permettano quello che è l'interfacciamento verso il cliente, l'approccio verso di lui con un sistema molto chiaro e molto semplice. La tendenza sicuramente sarà sempre improntata alla personalizzazione perché ogni persona con la quale ci relazioniamo e andiamo a lavorare richiede di avere una propria identità quindi nel nostro ambito sia residenziale che navale il nostro prodotto deve avere una personalità assoluta e non può essere standardizzato da un grande marchio. Quindi un minimo deve pure essere presentato in questo modo, quindi il nostro cliente finale per forza deve lavorare in questo modo e deve avere una propria identità con il nostro sistema integrato. Io sono Pesce Maurizio, sempre di Tamar, mi occupo della parte tecnica e dello sviluppo delle applicazioni per i nostri clienti. Dal mio punto di vista c'è una particolare attenzione da parte della nostra azienda verso le soluzioni che ci garantiscono una certa flessibilità e una certa ampiezza per quanto riguarda la realizzazione grafica. Vi sono infatti delle aziende che propongono dei prodotti customizzati ma che per noi sono dei limiti. Avere una grafica in cui siamo noi a decidere che cosa inserire, come posizionarlo e cosa collocare, quali sono i pulsanti da inserire all'interno ci permettono di ottenere un risultato che sia molto molto più versatile da utilizzare per il cliente finale. E questa è una cosa su cui ne poniamo una particolare attenzione.